Io ti chiedo, qual è il segreto per correre più alla fine della partita che non all'inizio? Le batterie non si scaricano mai a te? Come ho detto anche nelle scorse volte, cerco di lavorare durante la settimana al massimo per farmi trovare al meglio la domenica. Ma è vero che corri di più alla fine che all'inizio? Spero di correre per tutti i 90 minuti così il mister è felice. A parte i scherzi cerchiamo di lavorare veramente bene durante la settimana per poi dare tanta intensità durante le partite. Foggia, partita molto bella sulla carta, due squadre di categoria superiore. Che match ti aspetti? Mi aspetto un match combattuto da entrambe le parti. Noi stiamo lavorando bene dall'inizio della settimana per preparare al meglio la partita e speriamo di farci trovare pronti e di fare una bella gara. Non so se tu l'anno scorso nella seconda parte di stagione hai giocato a Foggia oppure in casa contro il Foggia, ma comunque quello stadio lo conosci bene. Sì sì no, ci ho giocato già altre volte a Foggia, l'anno scorso ci ho giocato solo fuori casa e ogni calciatore è contento di partecipare, di giocare contro queste piazze perché fa sempre bene.